Perché al medico sono debitore di qualcosa di più e non estingo il debito pagandolo? Perché noi tutti dovremmo essere i debitori di molto? Perché ha fatto qualcosa per noi personalmente. Si è speso per noi più di quanto gli sia stato richiesto. Ha temuto per me, non per la sua reputazione di medico. Non si è accontentato di indicarmi i rimedi. Me li ha anche applicati. È stato fra quelli che mi hanno assistito. È accorso nei momenti critici. Nessun servizio gli è pesato o gli ha dato fastidio. Ha sentito con preoccupazione i miei gemiti. Nella folla di persone che lo invocavano sono stato privilegiato dalle sue cure. Si è dedicato agli altri quando il mio stato di salute lo consentiva. Verso quest'uomo io mi sento in obbligo, non come verso un medico, ma come verso un amico.